Moriaia, a me troviamo una troponemoria così. Mi gusta sta cosa scusa. Cosa Cinzia? Che puoi trovare Cinzia? Peppe, spiega a Cinzia che cos'è il saturimetro. Il saturimetro, vieni qua! Spiegalo Peppe. È un piccolo oggetto indispensabile anche in sala operatoria. Serve a misurare la quantità di ossigeno contenuta nel sangue.